Dottoressa, non so se lo sa, ma gli americani sono il tuo più grosso degli altri italiani, è vero o no? St'estate è tornato il mio cugino dall'America, l'ho portato al mercato a fare una spesa, arriviamo, c'era una casa 6 limoni, ma fai questo e sa che è? E con questo è dei limoni, ma è da noi in America, troppi più grossi i limoni, una casa sa le pesche, ma fai questa che è? E con queste le pesche, e da noi in America, troppi più grossi le pesche, una casa sa le mille, e questa che è? E' stupida, questa è le mille, da noi in America, troppi più grossi le mille, arriviamo a una casa sa i cocomeri, ma fai questi sa che è? Questi sono i piselli sgranetti. grazie a tutti.